Il Cupello vuole festeggiare la permanenza in quinta serie davanti al pubblico amico Pen senza particolari belleità. Allo stadio comunale immagini di Mario Giacchetta, sbavatura di cacciatore in appoggio Simone Tucci, il filtrante per Nintè in bucata perfetta, il portoghese è glaciale, superato d'intino incolpevole nella circostanza avanti il Cupello. 1-0 Panfilo Carlucci conferma l'autore della rete al fianco di Perrella nel dogmatico 3-5-2. Calcio piazzato da posizione centrale per il penne Cristian Cacciatore, che gol! Esecuzione splendida, 1-1 su punizione come per Nintè, anche per l'ex Pineto sono 9. I centri stagionali in campionato implacabile sui calci da fermo, lui schierato in attacco con Di Ruocco e Pagano. Quasi in automatico la corsa a tagliare la difesa avversaria da parte di Rosario Di Ruocco quando Cacciatore ottiene il pallone, angola troppo sul secondo palo, l'esterno della squadra vestina ma azione da applausi. Remo Basso su punizione nella ripresa ha servito Perrella che indirizza fuori, reclama un calcio di rigore Zinni. Dopo lo spunto di De Cinque sulla catena di destra protestano il rosso-blu e incontenibile. Alessio De Cinque una scheggia impazzita imbeccato da Nintè, uno sguardo al centro, Gianmarco Dintino, premiato dal primo minuto da Adamo Pavone nel luogo di Cristian D'Amico, errore piuttosto evidente, regala di fatto il 2-1 al Cupello. La reazione sui piedi di Cacciatore, circumnavigato, Micale, solo esterno della rete per lui, i prodrumi del pareggio, azione che coinvolge tutto il trio d'attacco, Cacciatore per Di Ruocco, quindi Pagano, palla che bacia. La base del palo, prima di entrare in rete, straordinaria la combinazione, è un gol che di fatto narcotizza il match. In buona sostanza c'è spazio solo per l'intervento di Gianmarco Dintino che si riscatta, murando Marculino Nintè, 45 punti per il Cupello, salvezza meritata per Panfilo Carlucci, Adamo Pavone che chiude con un pari, un ottimo finale di stagione, Cupello 2, penne 2.